allora è stamattina ho dato un lavoro da fare entro entro il prossimo giovedì di fare in pratica di usare imparare l'ix shape e creare dei disegni che volevano loro almeno uno ok oggi pomeriggio oggi adesso mi ha chiamato un mio alunno e gli ho detto può andare dei disegni che ho fatto ne ha fatti due andiamo a vederli perché a me piacciono parecchio dunque andiamo aprire open ok andiamo a cercare qua su search gandini ok andiamo a vedere se mi vediamo se a cercare ok andiamo a gandini e quarta a questo ragazzo qua no e vado a cliccare questo ok dunque apple primo e ha fatto una tazza che vediamo ha fatto una tazza e niente è una bella tazza nel senso che a mio avviso ha fatto bene la divisa in due solidi ok dove prima ha fatto la maniglia poi ha fatto il corpo con già lavorazione interna qui dopo non so perché ha fatto così però se l'è cavata facendo poi andando a andare a raggiungere questo questo spessore anche se teoricamente era meglio fare con tutta questa superficie con la prima subdivision a mio avviso perché qui risulta un po c'è proprio questo la curvatura non è continua è staccata cioè come si può dire c'è una linea dritta e poi comincia la cura dunque a mio avviso sarebbe stata più opportuna comunque un bellissimo lavoro bello e niente e questo è uno ok naturalmente è diviso in due subdivision si poteva farlo tutto in una due o tre adesso non so teoricamente sono tre dovrebbero essere tre mi sa una due e tre perché ok va bene niente e questo è uno dunque io chiudo questo qua close ok non salvo ok adesso andiamo a aprire l'altro che è quello che mi ha più stupito di tutti ok andiamo a vedere che magari non devo neanche si vede subito qua eccolo qua e dunque vado aprire questo ok questo vediamo se ok ok in pratica si è fatto un aereo si è fatto un aereo nel giro di poco relativamente poco si è costruito che esteticamente molto bello mi ha detto che ha preso un'immagine e per me bellissimo nel senso che è fatto bene e qua è interessante come dunque ha fatto prima la fusoliera come prima subdivision poi ha fatto la seconda ok e poi ha creato ha creato il solido che dovrebbe essere il solido tutto assieme ok dunque avrebbe potuto poi fare al timone e no la deriva lo stabilizzato e gli stabilizzatori anche qua e dopo avrebbe potuto fare un corpo però comunque va bene qui è andato a fare la seconda subdivision che è lo stabilizzatore ok va bene qua comunque nel senso si poteva fare un po meglio ma comunque fatto è fatto bene ok e poi è andato a fare gli stabilizzatori ecco nel senso considerazione è stato bravissimo perché comunque qua ci vuole tempo comunque non ti arriva subito la fantasia ma detta mi ha detto che ha usato un'immagine di un aereo ok per però in poco tempo è creato un qualcosa di come si dice bello da piacevole da vedere ha aggiunto i colori ok e dunque molto bello e l'altra cosa che volevo dire ecco l'altra considerazione è questo il fatto che comunque questo xp shape può veramente creare delle cose molto belle artistiche interessanti ecco complimenti al mio alunno perché sono sono rimasto basito e sinceramente anche un po invidioso di quello che ha fatto ok ci vediamo alla prossima rivederci complimenti a grandini ok ci vediamo voi Grazie.